Partirà con la notte verde dell'innovazione responsabile l'ottava edizione della settimana del Buonvivere. La Kermes che si svolgerà nel territorio della provincia di Forlice-Zena è dedicata appunto ai temi del Buonvivere a tutto tondo, intese come relazione, cultura, sostenibilità e come sviluppo responsabile. Diversi gli appuntamenti previsti come la mostra del fotografo americano Elio Tervet a persone che è anche il tema della settimana del Buonvivere di quest'anno. Abbiamo 260 le realtà che parteciperanno a questa iniziativa, anche quest'anno oltre 200 i convegni, gli eventi per mettere insieme dei saperi e per così confrontarsi e far crescere qualche cosa di nuovo che di anno in anno si esperimenta. Inizieremo con una mostra fotografica. Da qualche anno abbiamo attivato questo nuovo linguaggio che è un linguaggio ovviamente di grandi interesse per i giovani, però mutuandolo proprio come i temi del Buonvivere. Sì, è un evento che si è consolidato negli anni, ma si è consolidato perché gli organizzatori naturalmente ci hanno lavorato molto, riempiendolo di contenuti importanti. E quindi un evento che oggi possiamo ben dire è un appuntamento ormai consolidato non solo del calendario degli eventi e delle manifestazioni del Comune di Forlì, ma di tutta la nostra regione. Nel corso dell'intera settimana ad animare gli spazi intorno ai musei San Domenico saranno circa 260 realtà tra associazioni, imprese e gruppi informali che daranno vita alla cittadella del Buonvivere, un luogo di confronto e di coesione aperto dalla mattina fino a tarda serata. Grazie.